Romain Febvre, grazie per la tua season. E' un po' di ride. Sì, è stato buono. Questa season è stata abbastanza in alto, al principio per me, ma dal medio della season ho venuto molte racconti. Ho finito anche la giornalità. È stata una buona season per me. Qual era il miglior momento della tua season? Il miglior momento di questo anno era probabilmente di vincere Lomel perché Lomel è un track che tutti conoscono. Tutti si riempie. È uno dei più più difficili del mondo. Quindi di riempire l'accento e di vincere, soprattutto in modo che ho fatto, era qualcosa di speciale per me. Sì, sì. Ok, e ora la season è finita. E come ti senti? Mi sento bene. Mi sento un po' di riempire. Ora è il momento di riempire un po' di riempire, perché è stata una lunga season. Abbiamo fatto alcune testazioni. Ora la ride è finita. Mi sento un po' di riempire. Mi sento un po' di riempire. Mi sento un po' di riempire, ma è solo per ottenere il riso come posso e poi vediamo che non sia invenuto, questo è il più grande risultato e se posso prendere il titolo, ovviamente provo. Ti piace l'atmosfera ECMA? Si, è bello, soprattutto ora siamo in ECMA per il weekend. Si, è davvero, 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 davvero. Si, è davvero, davvero, davvero. Si, è bello vedere che ci sono molte persone attrappate dalla industria motocicletta. Quindi, sono davvero, davvero, davvero dopo la Covid-19. Quindi, sono felice di essere qui questo weekend. Ok, grazie mille. Grazie. Grazie a tutti.